Depositato in Consiglio regionale il progetto di legge a firma del Presidente della Commissione Agricoltura Lorenzo Berardinetti e del Capogruppo del PD Sandro Mariani e dell'Assessore alle politiche agricole Dino Pepe che riforma la materia degli uscicivici in Abruzzo. La proposta è finalizzata a semplificare la normativa sugli uscicivici della Regione apportando una concreta manutenzione alle norme regionali e raccogliendo in un unico articolato le numerose disposizioni vigenti che negli anni si sono susseguite andando ad abrogare anche numerose leggi. Il provvedimento ridisegna le competenze e le funzioni di programmazione gestionale di Regioni Comuni e dettaglia la funzione delle amministrazioni separate dei beni di uso civico riconoscendone un ruolo primario. Un'importante legge che riordina e dà a tutti i soggetti interessati la possibilità di snedire le pratiche e abbiamo abolito con questa legge circa otto leggi che in precedenza venivano prese in considerazione. Da qui parte una riforma importante sia per l'ASBU che sia per i comuni e sia per la Regione perché vede il proprio territorio molto molto valorizzato e snellito nelle procedure di affidamento.